Oh, oh, il cuore mio, il cuore mio. Oh, il cuore. Oh, Marcella, è tutto ok? Ok, ok. Eccomi qua ragazzi. Porca miseria, sono arrivati i pagheti su Fortnite. Coreani originali. Cosa abbiamo ragazzi? Lo Sith Trooper che sta facendo un bordello. Abbiamo la Riot contro il Baton. Un po' Baton, diciamo, in realtà, Ray, insieme al nostro caro amico dall'altra parte. Minchia, abbiamo la First Order, le Fighter. Qua abbiamo il nostro caro Finn, motivo per il quale hanno creato anche la Baton per la Ray. Madonna santa, non possiamo dire no ragazzi, dovete fare subito questo shop, mettete il codice Goliani. E mi raccomando, vincete magari qualche... Degasso!